Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video, oggi chiudiamo con l'ultimo ramo delle maestrie quindi parliamo un po' del percorso assistenza è un percorso molto particolare perché è letteralmente spaccato in due e adesso vi faccio vedere che cosa intendo quindi prendiamo un campione come per esempio Madame Serris e vediamo come si articola appunto il percorso assistenza diviso in due dalla metà a sinistra va a pompare un pochettino i buff e quindi di conseguenza anche tutti quei campioni che curano, che mettono scudi e che vanno a mettere buff appunto mentre il ramo destro va a pompare i debuff, le riduzioni del contatore di turno tutta quella parte che può andare a migliorare le performance di chi manipola gli avversari in qualche maniera sono entrambe forme di assistenza quindi è corretto che effettivamente tutto questo sia inserito all'interno del ramo assistenza, pertanto vediamo allora, risolutezza, HP base, 810 punti va bene, va male, è irrilevante semplicemente è un buon punto di partenza per un campione che magari cura visto che tanti campioni che curano lo fanno basando sui propri HP 810 punti in più è qualcosa che potrebbe aiutare magari a curare un pochettino meglio poi, precisione più 10, molto molto utile, davvero è la maestria con cui si parte sempre per i campioni che mettono debuff per esempio Serris appunto fa proprio questo e quindi anche 10 punti sono molto molto utili sicuramente per essere sicuri al 100% che lei vada a mettere i suoi debuff poi, in posizione delle mani aumenta del 5% il valore delle guarigioni distribuite da questo campione allora, questo 5% non è cumulativo quindi se il vostro campione cura per il 30% degli HP dei propri alleati non è che diventa del 35% ma è un 5% in più di quel 30% quindi l'apporto sarà, non dico misero perché non è niente ma è chiaro che diventa molto più performante quanto è già più forte il vostro guaritore quindi in guaritori forti diventa buona questa non farà diventare pretevelli con un curatore decente quindi toglietevelo dalla testa allora, detentore di scudo aumenta del 5% il valore di scudo distribuito da questo campione stessa identica cosa il valore di scudo aumenta del 5% di quello che poi sarebbe stato insomma, quindi per esempio, che ne so, Zelota che lo fa per un 20% dei propri HP massimi otterrà un pochettino di scudo di più ma non il 25% poi, esaltazione della morte guarisce questo campione per il 10% dei suoi massimi HP la prima volta in cui un amico viene ucciso in ciascun round può essere utile in arena per così dire o anche nelle ondate, insomma per superare le ondate e avere un pochettino di cura extra potrebbe essere utile per esempio in campioni che devono fare danno e in più metterlo anche debuff come abbiamo visto ieri in Zargala per esempio perché è probabile che qualche coepo lo prenda però anche lei parteciperà attivamente, insomma, a sconfiggere gli avversari che sicuramente devono morire se vogliamo arrivare al boss e quindi ottenere anche una guarigione in più questa è anche molto buona, messa a fuoco perché aumenta di 20 punti la precisione quando questo campione non ha alcuna destrezza sui tempi di ricarica perfetta per l'arena perché se vinciamo noi la partita della velocità arriveremo ad utilizzare il nostro campione completamente a posto di maestria pronta per essere utilizzati tutte quante e quindi beneficeremo di ulteriori 20 punti di precisione poi Salvatore, Tauma, Turgo aumenta del 10% l'entità della guarigione il valore debuff scudo piazzati da questo campione se l'obiettivo alleato dispone del 40% o meno di HP anche qui si va a migliorare curatori e gente che mette scudi potrebbe essere utile in particolare nelle roccaforti, credo c'è circostanze in cui ci possiamo trovare più frequentemente al di sotto del 40% di HP contro il boss dei clan nel momento in cui vi trovate a questa soglia in genere siete già morti ma, cioè, oh, state per morire, insomma però comunque sì, penso che sia già più una cosa da roccaforte oppure, forse un po' in arena ma non credo quindi sì, in un curatore che utilizzate prevalentemente nelle roccaforti come per esempio Tenasil che in genere non si utilizza in altri contesti questo potrebbe essere effettivamente utile poi, posta rapida un 30% di probabilità di aumentare del 10% il contatore di turno quando un buff diffuso da questo campione viene rimosso o scade molto molto buona ricordatevi però che non si può utilizzare nei team inamazzabili che quindi hanno la velocità settata perché sia sempre la stessa durante tutta la battaglia e qualsiasi modifica al contatore di turno dei vostri campioni può portare a sballare tutto quanto quindi questa insieme ad altre maestrie che poi vedremo non possono essere utilizzate in quel tipo di composizione in tutto il resto potrebbero essere anche interessanti poi Scombinatore di sciami aumenta precisione di 4 punti per ciascun nemico in vita si accumula fino a un 16% anche questa può essere utile in arena perché ovviamente quando iniziamo a noi gli avversari saranno tutti vivi e di conseguenza beneficeremo fin da subito di un bonus quindi potrebbe essere sicuramente valida Celerità arcana un 30% di probabilità di aumentare il contatore di turno quando un debuff diffuso da questo campione viene rimosso o scade anche questa è molto molto utile anche questa è pericolosa per lo stesso identico motivo di cui vi spiegavo prima quindi team inammazzabile o meglio determinati team inammazzabili non possono beneficiare di questa maestria come dell'altra per esempio anche il inammazzabile con due mangia uomini è una delle maestrie che non si possono utilizzare Aiuto misericordioso aumento del 15% l'entità della guarigione e il valore dei buff scudo piazzati da questo campione se l'obiettivo alleato è sotto un debuff di controllo come prima forse questa può essere un po' più utile in arena perché è anche un contesto in cui si viene molto spesso manipolati ovunque gli avversari cercheranno di manipolarci in qualche modo però anche nelle roccaforti, nell'ondate sicuramente e anche contro gli stessi boss ci sono boss che controllano quindi bene poi ha un 5% di probabilità di ridurre un turno ai tempi di ricarica di una destrezza a caso all'inizio di ogni turno ciclo di magia è molto raro che accada però potrebbe succedere magari potrebbe cambiarvi l'esito della partita quindi perché non prenderla questa può essere molto utile può essere inutile o può essere pericolosa dipende dal contesto quindi può essere utile se avete dei set che danno statistiche base attivo statistiche base si intende set precisione set resistenza set attacco set velocità questo è molto molto utile sicuramente perché vi permette di tirare fuori un pochettino di più dai set per esempio un campione come giudicatore che in genere si cerca di fare con 3 set velocità attivi guadagnerà circa 6 o 7 punti extra di velocità grazie a questa maestria attiva e quindi può essere utile in questo contesto è inutile se i vostri campioni non hanno set attivi o comunque set che danno statistiche extra base appunto quindi tipo per esempio un set rubavita non beneficerà naturalmente questa maestria ed è inutile o meglio è pericolosa anche questa nei team in ammazzabili con i boss dei clan perché se voi utilizzate questa maestria e set velocità per raggiungere la velocità necessaria quella particolare velocità che serve al vostro campione il punteggio generato da questa maestria non viene calcolato per motivi che ancora non ho ben compreso e di conseguenza vi sballa nel momento in cui voi togliete questa maestria ripristinate il valore corretto aggiungendo grifi o comunque manipolando i vostri pezzi funziona provare per credere l'ho provato ed è effettivamente così è interessante che questo aumento è moltiplicativo non additivo quindi non si aggiunge per esempio al 15% di attacco extra che vi dà un set attacco ma semplicemente è un 15% in più di quel 15% quindi lo stesso discorso che si faceva prima per lo scudo e per la cura poi riduce il contatore di turno dell'obiettivo quando questo campione lo colpisce con la destrezza predefinita per la prima volta riduce del 20% il contatore di turno con destrezze ad obiettivo singolo e invece del 5% solo con destrezze territoriali si verifica una volta in tutta la partita per obiettivo questo è molto molto utile in particolare contro il cavaliere pirico perché anche campioni che non riducono il contatore di turno in nessun modo avranno una possibilità comunque con il primo colpo che fanno a mano di riduglielo però state attenti perché se colpiscono lo scudo quando è calato con la loro skill primaria questo bonus se ne va quindi insomma è buono ma fino a un certo punto in arena può essere molto determinante perché magari vi serve quando siete disperati per sballare un paio di turni dei vostri avversari che potevano diventare pericolosi e quindi ve la consiglio ve la consiglio davvero poi regali duraturi un 30% di probabilità di estendere di un turno la durata di qualsiasi buff diffuso a questo campione utilizzatissima qualsiasi campione che mette molti buff dovrebbe utilizzare questo tipo di maestria quindi benissimo campioni come Lilitu ma qualsiasi campione che mette tanti buff infatti per esempio anche voi potreste dire ma Madame Serris non mette buff invece sì perché ha una certa possibilità di mettere il blocco debuff se per caso riesce a rimuovere i buff avversari con la sua seconda skill se c'è questa maestria attiva questo blocco buff verrà ulteriormente steso quindi è molto molto importante sicuramente poi aumenta la velocità dell'8% per ciascun alleato morto si accumula fino al 24% può essere utile in determinati campioni Cragno Corona per esempio potrebbe essere visto che ci sono diverse circostanze in cui magari siete stati completamente schiantati ma Cragno Corona no perché si mette in ammazzabile avrà la possibilità magari grazie a questa skill di prendere più velocemente turno e far fuori lei il team avversario per voi quindi potrebbe essere valida Ciacchino aumenta del 5% la probabilità di piazzare un qualsiasi debuff di destrezze o manufatti non mi pare che sia cumulativa questa cosa quindi supponiamo che un vostro campione metta già un determinato debuff che voi aggiungete un set che mette quel particolare debuff e l'unico che mi viene in mente a questo punto che è inutile è il set che mette riduzione guarigione che non è contemplato fra quelli qua sotto non c'è nessun motivo per cui dovreste fare questa cosa qua ma comunque se volete fare questa cosa qua non mi pare che sia cumulativo quindi non mi pare che otterrete un 5% di probabilità dal set e anche dalla destrezza in questione comunque in ogni caso ci sono tante circostanze in cui i vostri campioni non hanno una probabilità del 100% di mettere un debuff però molto importante come riduce difesa accade molto spesso riduce attacco ad area quindi questo 5% vi permette di raggiungere magari un 80% che è già un po' più probabile insomma molto molto utile da questo punto di vista poi questo invece è il corrispettivo di regali duratori per i debuff quindi è un 30% di probabilità di estendere di un turno la durata di qualsiasi debuff diffuso da questo campione eccetto quelli di controllo naturalmente quindi molto molto valida anche questa perché se si attiva molto spesso vi permette di garantire quel determinato debuff per sempre sull'obiettivo e quindi valida sicuramente molto molto valida per i debuffer in generale allora andiamo adesso su quelle finali quindi e desider di vita HP massimi 3000 non mi viene in mente nessun contesto in cui questa possa essere utile forse l'unico campione che proprio così adesso così mi viene in mente è Vrasc perché è un campione in cui l'unica cosa che deve avere è HP e forse potrebbe essere utile forse però è l'unico contesto in cui mi viene in mente e potrei anche sbagliarmi e magari qualcuno conosce un utilizzo di Vrasc diverso da quello che ho in mente io più performante chissà poi aumenta del 20% il contatore di turno di questo campione ogni qualvolta un eroe alleato scende sotto il 25% di HP questa è molto molto potente per il vostro speeder in arena in genere tutti quelli che utilizzano giudicatori in arena chiudono con questa maestria qui perché magari vi permette di prendere quel turno extra per curare tutti i vostri alleati per riportare in vita chi è morto insomma quindi questa può essere davvero davvero molto utile per uno speeder dell'arena poi aumenta del 2,5% il tasso di riempimento del contatore di turno per ciascun debuff attivo diffuso da questo campione si accumula fino al 10% questa può essere utile in determinati contesti forse potrebbe essere utile per esempio per Sifi visto che lei non soltanto estende il contatore di turno dei campioni ma anche li riempie di buff e questo potrebbe darvi qualcosetta in più sì lei per esempio ecco quindi campioni che non soltanto riempiono il contatore ma mettono anche tanti buff più di uno almeno insomma ecco quindi buono occhio d'aquila è la maestria con cui si chiudono i campioni che devono mettere debuff in arena in arena come vi dicevo non c'è mai un limite massimo alla precisione di cui avreste bisogno semplicemente la regola è tutta quella che potete dare e anche questa maestria è un buon modo per raggiungere valori molto elevati per esempio la stessa madame series che vedete qui ha 480 di precisione mi piacerebbe averne molta di più di quella che vedete ma ho fatto meglio che potevo e l'ho ottenuta dalla sala maggiore da uno standardo grosso da un'armatura grossa perché anche in arena è molto molto importante l'armatura che abbia precisione per quanto molti potrebbero dire i contrari ma vi assicuro che è così utilizzando set precisione cercando la precisione in tutti i pezzi possibili però anche dalla maestria occhio d'aquila quindi almeno per il vostro debuffer dell'arena non dico per il controllore ma almeno per il vostro debuffer dovete essere sicuri al 100% che questi debuff vengano posizionati e soprattutto questo vi permette di confrontarvi anche con team molto alti di potere insomma più precisione avete più potete azzardare battaglie contro team alti in termini di potere bene detto questo non avrei altro da aggiungere come al solito vi invito a scrivere qua sotto nei commenti il vostro parere in proposito domani dovrebbe uscire il video sulla nuova fusione per quanto ci sia un sacco di argomenti di cui discutere veramente tantissima tantissima roba e non penso di riuscire a condensare tutto in un unico video quindi magari ne parlerò più riprese insomma vediamo ma ci saranno diversi contenuti quindi avrò modo di annoiarvi tantissimo con i miei sproloqui nei prossimi giorni detto questo vi invito a lasciare un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti